ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video come avete visto dalla copertina video 1 di 3 perché abbiamo tanto di cui parlare vi propongo oggi un sistema davvero davvero veramente interessante si chiama epi cube distribuito gestito da un'azienda che leggete lì sotto sulla base che canadian solar quindi un'azienda che vi seguirà per tutto quello che è il processo di formazione garanzia assistenza sul prodotto eccetera video che chiaramente è rivolto agli installatori per conoscere un nuovo prodotto molto molto versatile ma anche ai clienti che potranno richiederlo al proprio installatore di fiducia di che cosa parliamo parliamo di un sistema ibrido all in one questa colonna che vedete racchiude già tutto quello di cui ha bisogno il vostro impianto fotovoltaico in questa colorazione molto molto elegante e su questo secondo me non è una questione soggettiva ma bisogna essere obiettivi è uno dei sistemi più belli esteticamente che io abbia mai visto abbiamo questa parte sopra che è l'inverter imbrido con uscita backup e ci arriviamo dopo questo modulo che vedete e questo modulo che vedete sono parte dell'accumulo ossia ogni striscia ogni modulo è da 3.33 kilowattora l'inverter è unico unica opzione disponibile 6 kilowatt con delle caratteristiche interessanti che adesso analizziamo pian piano completamente modulare sistema di montaggio a pavimento con base batteria batteria e possiamo metterne fino a 6 ad arrivare a 20 kilowattora inverter prevede una staffa muro per tenere in sicurezza la colonna ma c'è anche l'opzione per l'installazione della colonna direttamente a parete connessioni laterali il cavo che vedete è quello del misuratore del sensore del ct questo inverter al meter esterno che montato su barradin con il proprio ct di lettura connessione grid e off grid le due stringhe sull'ingresso laterale sulla parte di là che adesso non vedete c'è un led molto bello che segnala lo stato impianto e non vedrete null'altro qui di lato c'è il modulo per la connessione wifi e bluetooth quello che vedrete anche se lo mettete in un ambiente domestico dove rimane a vista è semplicemente questa bellissima colonna non è solo bello ma dei dati importanti come vi dicevo connessione on grid quindi a tutte le certificazioni del caso compresa la cell 0 21 più tutte le altre che vi lascio qua sotto per analizzarle e valutarle con calma funzionamento in modalità di backup lavorando sia col fotovoltaico che con l'accumulo quello che cambia sono le potenze disponibili in base a quante batterie vengono installate in questa configurazione con due batterie da 3.33 che è la configurazione minima quindi 6.66 kilowattora di accumulo l'inverter lavora in uscita prelevando solo dalle batterie con 3 kilowatt di potenza che diventano 5 con 3 batterie e che diventano poi 6 da 4 batterie in poi questo lavorando prelevando dalle batterie in modalità on grid prelevando invece sempre in modalità connesso alla rete sia da fotovoltaico che da batterie arriva comunque in tutte le configurazioni a 6 kilowatt c'è poi il discorso del backup perché l'uscita di backup è da 7.6 kilowatt qui hanno fatto la furbata perché lavorando on grid l'hanno limitato al massimo a 6 kilowatt lavorando in backup arriva a 7.6 kilowatt 7.6 kilowatt non con due batterie disponibili come con due batterie abbiamo sempre 3 kilowatt con tre batterie 5 kilowatt con quattro batterie 6 kilowatt e mezzo da lì in poi abbiamo tutti i 7.6 kilowatt disponibili di potenza in modalità off grid questo prendendo solo dalle batterie prendendo da batterie più fotovoltaico abbiamo la massima potenza anche solo con due batterie e qui già vi ho dato dei dati importanti perché poi parlando di uscita di backup non abbiamo una semplice uscita che può essere un eps limitato per i carichi prioritari abbiamo 7.600 watt disponibili esiste un accessorio direttamente della linea ipcube che è il quadro switch di interscambio tra off grid e on grid ma potete tranquillamente abbinarlo ad un vostro quadro di scambio che installate e certificate parliamo poi di ingresso fotovoltaico abbiamo due stringhe due mppt separati che lavorano da 90 a 550 volt con un massimo di 600 con ben 5 kilowatt per stringa questo bestione di inverter che poi vi farò vedere aperto e fatto anche molto bene come connessioni riesce a restituire dei dati mica da ridere rete canadian solar che gestisce il prodotto ipcube che vi mette a disposizione tutta una serie di servizi che sono dalla pre vendita dove vi lascerò in descrizione tutti i contatti per contattare la rete di distribuzione attenzione perché stiamo anche cercando di prenderne la vendita direttamente con gli solar e poi ci sarà tutta la parte di formazione perché l'installatore per configurarlo e attivarlo ha bisogno di partecipare ad un corso di formazione che si terrà online alla fine del corso vi verranno fatte tutte le domande del caso per arrivare ad ottenere il certificato come il mio certificazione che vi darà diritto ad essere autorizzati per quanto riguarda l'installazione e l'attivazione del prodotto anche se nella prima installazione verrete comunque seguiti e supportati direttamente dall'azienda è un sistema molto molto interessante per come concepito nel secondo video vi farò vedere l'installazione vera e propria che è di una semplicità disarmante si incastra nel modulo l'uno sopra l'altro è già tutto pronto già tutto fatto vedrete che c'è una cura nei dettagli nelle parti incluse è veramente molto alta le connessioni non dovete fare dei cavi non dovete prendere fili schemi eccetera è già tutto pronto fatto molto bene insomma vi ho fatto una piccola presentazione non passerà molto tempo dalla pubblicazione del secondo video state in campana perché lì capirete veramente di che cosa stiamo parlando solo per ora è tutto mi raccomando che non costa nulla così rimanete sempre sintonizzati con le ultime novità ci vediamo al prossimo video di una delle qualsiasi serie prossima diretta del giovedì o se passate al negozio vi offre un caffè non posso farvelo vedere il negozio perché ce l'ho installato proprio qui a casa mia già da un po' è qui funzionante in modo da potervi dare poi un feedback concreto di come si è comportato in questo periodo di utilizzo grazie a tutti ciao da massidattoli